Ciao, benvenuti alla intro di fare retrocomputing YouTube playlist Sei un appassionato di retrocomputing? Ti piace l'Apple 2, Apple 2C, Commodore VIC-20, Commodore 64, Commodore 128, MSX, Atari ST, Amiga? Ti piacciono i computer ad 8, 16, 32 bit? Questa playlist farà proprio per te Fare retrocomputing, riflessioni personali e rapidi confronti di retrocomputing Il link di fare retrocomputing YouTube playlist lo trovi in descrizione di questo file Ciao, ti aspetto!